io la guance ero regalato al cervello o no? ci serve un po' di muoio non era ancora al cervello ha scelto tutte le palle degli occhi fuori no le guance ma che schifo ma cosa che schifo? Hannibal the cannibal l'antopsia no no ma guarda che ma no lo scuoia si lo scuoia se lo mangia guarda quella che ti deve fare perché non mangi l'occhio? con le persone è un po' schifo ma tanto lo fanno quelle morte si ma che cattiveria oh sto per evitare volevi dirti di dolorato però se vuoi vedere dei filmati di qualche intervento chirurgico si no ma l'intervento chirurgico il problema è che lei poi le mangia queste cose oddio adesso non può capire ma proprio cercare ma non c'è il cervello questa cosa non c'è il cervello ma non c'è il cervello senza il cervello stupisce ma senza il cervello mi sento un po' osservata ho schizzato via l'occhio ho schizzato via l'occhio ma secondo me non mi vale in faccia mi ha schizzato via l'occhio mi ha schizzato via l'occhio procediamo ora all'apertura della scatola cranica lo sai che finisci su youtube vero stasera? eccolo qua il cervellino vietato ai minori questo dov'è il cervello? favi vedere il cervello eh l'ho violentato un po' se vuoi ce n'è un altro qui aspetta fa vedere bene aspetta è un po' smoscio però oh che schifo oh che schifo ma che schifo fai te ah si eh però ora si bollito il cervello di mucca di mucca fai così come Hannibal guardate sono arrivati i calamari voi si cosa c'è dentro? puoi mangiarti anche questo? non lo so ma era buono eh? era buono puoi mangiarti anche questo? vero? ciao no l'avete... lasciala lì quella però no non è che l'abbiamo violentata guarda che sorriso che ha no l'abbiamo violentata si sta divertendo un casino guarda peccato che sia morto e impalato si ora arriva vedo il tuo pesce smembrato la la testa che non c'è più ma dove è finita questa? vero ma sono arrivati del pazzo che schifo gente no 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 no